Una situazione ormai fuori controllo, la definisce così Paolo Bernini, ex deputato e presidente di DPA Onlus, la strage di Gatti, che sta interessando il territorio di Battipaglia. Bernini commenta anche la decisione della sindaca di emettere un'ordinanza sulla questione. Apprendiamo con grande soddisfazione che la sindaca Cecilia Francese ha accordato le richieste pervenute dai volontari, afferma Bernini, e che quindi, oltre ad avvisare la cittadinanza della possibile presenza di esche avvelenate, concederà, senza alcun onere per l'amministrazione, l'utilizzo di uno stabile in cui sistemare momentaneamente i gatti delle colonie più a rischio e i cuccioli, così da garantire l'incolumità, mentre i volontari che si sono riuniti in un unico coordinamento cercheranno adozioni con l'unico obiettivo di sottrarli dai rischi della vita in strada. Parallelamente alla messa in sicurezza degli animali, intanto, continuano le indagini della procura per capire chi si nasconda dietro l'uccisione dei gatti. Siamo sicuri, sottolinea Bernini, di poter affermare che il killer, alla luce del modus operandi, sia un soggetto pericoloso non solo per gli animali.